La Lega Pro ripartirà a porte chiuse e l'Arezzo ricomincerà come previsto il 15 di marzo in casa della Gianerminio. Senza pubblico, così come senza pubblico, sarà soprattutto il derby con il Siena, previsto in notturna giovedì 19 marzo. Salta dunque l'incasso stagionale per eccellenza per la società Maranto, una tegola piuttosto grossa. La Lega Pro ne è consapevole e chiede che il governo, in questa situazione di emergenza, pensi alle società di Serie C già in difficoltà per la situazione generale e che potrebbero essere messe in ginocchio anche per i mancati incassi dello stadio. In occasione di Arezzo Siena non sarebbero stati validi gli abbonamenti per la giornata a Maranto. Si giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile. Non saranno ammessi i tifosi all'interno dello stadio né ospiti accreditati dalla società. Ammessi soltanto gli operatori televisivi, i giornalisti, il fotografo ufficiale, il social media manager, il personale tecnico con funzioni estrettamente connesse all'organizzazione della gara, come i raccattapalle, i manutentori del campo, i presidi tecnici, i video e audio, gli operatori di polizia delle aree interessate, i tecnici dei broadcasters, gli incaricati della Procura federale, i delegati di Lega, i medici antidoping, gli osservatori arbitrali dell'organo tecnico, gli addetti alla pubblica sicurezza. Non saranno effettuate interviste al termine della partita e neanche conferenze stampa. Nel frattempo, l'Arezzo e The Best Equity comunicano che la campagna di equity crowdfunding a Maranto, con obiettivo alla ristrutturazione del centro Le Caselle e il sostegno al progetto sportivo dell'Arezzo, è pronta per essere lanciata. Negli ultimi giorni sono state completate tutte le formalità burocratiche, le operazioni imposte dagli organi di controllo, la volontà è quella di lanciare la campagna già nella prossima settimana, ma l'emergenza coronavirus ha portato l'Arezzo e The Best Equity a rinviare in seguito la presentazione. Per restare aggiornati si può consultare i siti thebestequity.com e www.ssarezzo.it.